Allora, mi dica. Dottor, lei mi deve aiutare. Io sono ermafrodita. Che cosa? Sono ermafrodita. Mi deve aiutare, dottor. Ermafrodita? Eh. Scusi, ma lei conosce il termine scientifico ermafrodita? Cioè, sa cosa vuol dire? Cioè, ermafrodita è uno che ha sia l'organo genitale maschile che l'organo genitale femminile. Dottor, io lo sto dicendo, sono ermafrodita. Mi deve aiutare, dottor, la prima. Cioè, lei si ha l'organo genitale maschile che femminile. Mi deve aiutare, mi aiuto, dottore. Cioè, come dica, la devo visitare? Eh, perciò sono venuto. Vabbè, vediamo. Scusi, ma vuol dire? Sì. Ci convino proprio, dottor. Convinto sì. Vediamo, ma qua ce la c'è niente. No, 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 apri il capito. Veniamo. Aspetta. Scusi, giovane, io vedo solo l'organo genitale maschile. Quello femminile, dove sta? Dottor, ho detto, dottor, dove sei visto? Qua ce l'ho proprio, dalla mattina. Qua ce l'ho proprio. Tu, alla mia, te io. Scusi. Tottor.